IL PORTUNE IL PENTRO IL PORTUNE IL PORTUNE IL PORTUNE OLIVER Ora, attenti, sei riqui a Riannina, eh? Che papà finisce di fare un lavoretto e poi si mangia. Tanto ti piace questo bel librono qui, guarda, eh? Che bello! Ma io non so leggere. Ma come? A che casa hai? Scusa? Appena hai iniziato la prima. Ah, già, eh. Eh vabbè, ti guardi le figure, eh? Guarda che belle le figure che c'è. Piace? Pronto? Ciao, vai, la sono io. Senti, stasera non posso, ho avuto un problema. Non mi vuoi più vedere? Ho fatto qualcosa. Papà? Chi è? Una bambina? Dove sei Guido? Ma no, a casa, è la televisione. Senti, ci vediamo domani sera, no? Sì, come no. Scusa, stasera ho avuto un imprevisto. Non ci vediamo stasera, ci vediamo domani. Che problema c'è? Non mi vuoi più vedere, vero? Ma che c'entra, scusa? Addio Guido, è stato bello finché è durato. Non si rompe? Non si rompe? No, c'è il divano. Poi quello lì è un modello resistentissimo. Perché c'è la foto delle puppe di mamma? Ma non sono le carate puppe di mamma quelle lì. E di chi? Non lo so, l'ho comprato. Perché? Perché è arte, è un artista famoso. Secondo me sono della mamma. E vabbè, e allora sono della mamma. Senti un po', c'è fame? Sì, eh? Quanta? Tanta. Andiamo a vedere cosa c'è in cucina, dai. Vieni. Vediamo un po'. Vieni. 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 Ciao. Vieni. 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 Grazie a tutti